mamma mia quindi se voglio posso fare le transizioni andare in full camera così e farmi vedere nella totalità dello schermo cosa che prima non potevamo fare picco ragazzi è contentissimo l'ho detto domenica che stavo che era montato ed era strafelice cioè ha detto altro che festa di lavoratori questo sì che è un vero giorno di festa troppa qualità non siete abituati ladder dai ma te ci giochi stai facendo ladder tuo no in stream ultimamente sì ma il sistema lo studio mensa ma la discarica ma è uno studio di un ingegnere qua sopra dietro ragazzi quindi è pieno di fogli è normale comunque metteremo posto cioè sposteremo le cose due gocce si frizza le due gocce si frizzano ma è una fritto se ne escono due va bene in ciabatte ma che è il studio che devo girare in in tacchi bello questo fortissimo a partire così magari sta banana la teniamo magari esce un mechino dopo comunque ragazzi non siamo abituati tra l'altro io non pensavo a fare così abissare la differenza devo dire la verità avevi saputo che la differenza era così alta avrei cambiata probabilmente prima adesso si vede si vede di più il la serie di fogli qua dietro però il fatto che un pochettino sbiadisce nel dietro via anche quello anche quello dal tocco extra tocco extra che sa su youtube come ci rimarranno quando i video saranno una qualità così superiore il giorno migliore per riabbonarsi se non quello del montaggio della mitica webcam bella no guarda è un giorno storico questo un giorno storico super hd mozzo mozzo tirapp canale non è malvagia però il mozzo is better saliamo tu lo dava picchiamo due se troviamo la goccia è fondamentale per andare a fare la triple 6 come è andata sabato con papà turna domenica dici si siamo andati a vedere la partita lui si è divertito molto anche io mi sono divertito molto e non mi ricordavo fosse così divertente andare allo stadio devo dire la verità è stato divertente tra l'altro ho sentito un coro che non ho ben capito se veniva dal venezia le tifosi del venezia direttamente o se lo faceva la curva della juve che però mi ha fatto ridere un sacco dicevano torneremo 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 in serie b e se era stato cantato direttamente da quelli del venezia spettacolo cioè autoreunia bellissimo c'è il nuovo streamer come alzò la definizione hai visto? hai visto la differenza? siamo andati a vedere juve e venezia quello che non è andata bene o meglio che sarebbe potuto andare meglio è stata la formata su Soler perché oddio l'ho po' livella non è che livelliamo anche noi qua questo è buono però secondo me vinciamo qua quindi quasi quasi livello qua che non vinciamo contro uno che sta al tre che è livellato lui teoricamente due verospini massimo ha tre pezzi e con due verospini massimo ce l'ha uno con scudo secondo me si salta e su Soler cioè dovevo se Dybala avesse fatto gol o assist e la juve non avesse subito gol avremmo vinto tipo 20.000 euro di premio una roba allucinante perché avevo Insigne che ha preso 100 il massimo in assoluto e Sergei Milinkovic-Syves che ha preso quasi come Insigne quindi era partita veramente alla perfezione la giornata e poi la juve ha subito gol Dybala è entrato quindi non è neanche partito titolare e ha fatto super schifo e quindi sbusteremo domani domani sera abbiamo comunque un bel premio da sbustare probabilmente sarà un premio sui 300-400 euro che quindi di certo non si butta via di certo non si butta via e però possiamo andare meglio Davyabot fortissimo potremmo accoppiarlo a Mummia al suo perché sempre meglio avere qualche servitore da giocare perfetto meglio di così ragazzi è difficile ora ho il mech su cui tirare le banane che abbiamo tenuto apposta lo pompiamo turno dopo e probabilmente sarà un vendo mozzo livello prendo goccia e e poi livello di nuovo fino ad andare al 6 in sostanza cioè turno dopo sarà tipo ok è così livello vendo mozzo prendo goccia poi avremo 9 gold e costerà 10 livellare vendiamo al vendimentale e trippiamo al 6 a turno 7 fortissimo vero bella la nuova webcam è il sito che stanno chiedendo in Italia sale di sport contro il video il sito che a San Marino stanno facendo invece disegno di legge per normali e favorirli questa di San Marino non la sapevo ho letto quella italiana e so che in Italia io sono andato in una in una sala a Rimini l'ultima volta ed era anche sala giochi quindi qua io non penso che verrà chiusa ma hai messo il filtro che ti fa bello no non ha messo nessun filtro ragazzi così naturale ahia ma ho acceso il pezzo c'ho qui danno quindi saliamo pananiamo wow leggendaria lores grazie della sub grazie mille che webcam è è una è una fotocamera ZV1 è una fotocamera che viene attaccata al pc in questo caso ho una elgato capture card e puoi mandare la fotocamera come una webcam e la qualità la differenza di qualità si vede wow leggendaria visto che ti piacciono i cori eccoti il più bello un giorno all'improvviso mi innamorai di te il cuore mi batteva non chiedermi il perché di tempo ne è passato ma sono ancora qua e oggi come allora difendo la città Ale 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 minore di 3 Napoli minore di 3 turni bella l'è pulle grazie di nono misa di sab questo coro sul Napoli non lo conoscevo ne conoscevo altri che non si possono però cantare in live questo mi mancava grazie nel nono mese te l'avete che era il nazio dubitabile inizio per essere la chat super bullish noi mi sono sempre fidato mi sono sempre fidato era che effettivamente ho rimandato un sacco perché non pensavo così tanto quello è vero quello devo quello devo dartene atto non pensavo fosse così ampia la differenza vediamo questo qua mi è sgravo sto 10 14 8 ci sono altri tra due turni dovevano trovare il il buste per questa build qua comunque sto qua va bene preso irli ok comunque il nato ringraziamo il tuono per il supporto tecnico yao is back grande yao welcome back 800 missili di webcam allora io quando l'ho presa costava 600 mi sembra non 800 salita di prezzo ah è salita di prezzo mi sembra di pagare la pagata 600 questa può essere costasse 600 a dicembre plus valenza vendi ci faccio più 0 0 più 0.08 et 007 dai così dovete aspettare altri 5 mesi per quando ne ricompro un altro e la riattacco uh value drive può essere le sony sono richiestissime a the moment quindi ora è andata è in hype insomma è andata in hype allora ragazzi potrei anche andare al 6 so che sembra una follia lo hai probabilmente perché sto void lord è molto buono però 38 di vita con l'opo che livella essendo deathwing ci può stare forse se no prendo brane 5-9 però non ci sono i murlo quindi brane non è bellissimo il void lord è forte sto turno però questo ragazzi i demoni non dovrebbe avere troppi destrattles meno che appunto non si è preso dai vold lo mi ha livellato ora io salirei ragazzi un po' gridi però turno dopo dovrebbe arrivare la triba di questo magari poi lui ci dà un dorato al 6 insomma un lusso poi bello il modulo freeze ah ti sei messo a giocare veramente ladder e infatti leggevo oggi il buddy che si gantava si gantava che fa rank adesso che resettono tutto se doveva farlo due giorni fa e ti taggava infatti ho detto boh ma non sta giocando ladder il thunder infatti sta giocando ladder comunque questo ci dovrebbe dare poi la dorata possiamo sculare anche un barone o un buster dorato se ci va di lusso dai abbiamo ammazzato quello lì che poteva essere pericoloso non mi ha attaccato devi a bot prima che si riefresciasse dai 10 danni sono ok ora abbiamo due triple più un random dorato che potremmo anche sculare qualcosa di assurdamente OP capgar attenzione capgar dorato può avere il suo perché se troviamo eliza adesso è buona c'è il buster però c'era anche la tripa sua ma è meglio il secondo buster minchia la tripa di sacchizzatrice secondo me va presa guai genio è mamma non è mai pipistrello salta lui lui un tra buster modulo mamma direi un'altra mamma ma evitiamo troll anche se potrebbero non essere poteva non essere male anche la seconda mamma però sono mech qua cadgarone se ne va anche se tanto i gatti non ci stanno metto buster gli do modulo non metto questo non prendo neanche rag roll due genie un servitore in meno una moneta d'oro in più roll non servono niente stiamo fermi qui si rogliamo ancora Davebot ci può frizzare banana banana che boh forse era comunque meglio tirare sul Dave a botte adesso bisogna trovare altri buster baroni morto morto mantieni la pressione prenderò amalgadone non so ce n'è un altro ma non ci interessa fare gli amalgadoni qua zap contro mech con una tripla può starci amalgadone può prendere boh veleno non è brutto penso di prendere amalgadone qui però non prendo il secondo roll tripla sua no 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 sense for reaper due piante due piante com'è è good forte di mama io ragazzi con tutta sta vita terrei ancora tutto non prendo for reaper questo è buono questo è buono bisogna abitolare i menas qua e i kangor adesso hm Bene 13 danni Oh Questi sono forti E' ora di far saltare Il 31-20 Salta questo Entra Kangor Metto Menas E tengo un altro turno Cioè in teoria sarebbe da mettere un altro Deviabot E probabilmente far saltare lui Dipende quando ci sentiamo Deboli insomma sto turno Però in teoria dovrebbe entrare un altro Deviabot Al posto suo E un altro Un altro Mech Che la gripper è ok Però in teoria sarebbe un altro Kangor Io me la gripperai Un'altra durata la vorrei prendere Ciao turnone Buon inizio settimana Ciao Francimada Grazie del sesto mese Sera mister tier 2 Ciao pocio Speriamo Oldie Sta tier 2 Però dai Cioè in senso Potevo Poteva essere una di quelle giornate Dove ci vinceva di più Ma Comunque A portare casa tier 2 Tutte le settimane Ci mettiamo la firma No? Cioè Un'altra bella cartina Da sbustare Un top Buono Rimani in vita con uno Questo fa solo 6 danni Solo Ma cosa vale 6 gold? Se avendo sti due Posso recuperare del gold qua Prendendo un demone È arrivata l'ora di Di farlo saltare Sto 32 20 Non vogliamo prendere Il foreeeper Servirebbe un cango Ragazzi Demonerando Roll Cimolla Cimolla Di Mi dispiace Avere sto 32 20 Però indubbiamente Con così poca vita È forse da far saltare Posto bene la cimolla In attesa di trovare di meglio Assolda pure una di queste Rip Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Restrizioni di sicurezza Disattivate Attivazione Meccanismi di mietitura Speramente Queste banane qua Erano a tirare su loro Per farli andare fuori Dal range di zap Ma questo è appena Livellato A 5 Buono Questo è uno buono Perché avrei evocato Due Buster E due E due Corita Però ok È lo stesso Uh questo ha fatto male Non è assicurata la vittoria Ora sì Però non lo killiamo Solo 8 damage Bene Alessio Non te l'ho letto Non te l'ho letto Sono ultimex Ciao picco Ho visto anche adesso Picco Che si è mostrato Picco ti piace la webcam Sei contento Te l'ho messo Adesso i video Spostano Con questo upgrade di qualità Ma già Lo devi cancellare Il video che hai pronto per domani Tocca mettere uno Nelle prime poste di oggi Con la nuova webcam ormai Oh yes Ripa di Barone Il net Buster Dobbiamo far saltare fuori Per mettere Buster È molto più forte Specialmente contro uno Che ha questi Demoni così giganti La verità è che Noi vogliamo Triplare Buster E cercare un altro Kangor E la build è fatta È un Menas da mettere qua Quindi ci sta Secondo me mettere un altro Buster Tra l'altro Apparente faremo una cosa del genere Anche a me Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Sembra che tu possa ottenere Poi dobbiamo far sì Che lui attacchi Questo Buster Per primo Quindi sbananiamo un po' Qua e là Adesso attaccherà Prima il 10-12 Ma poi può attaccare Omega Se ha zap E va bene Se mi attacca questo Ovviamente non frizzo lui Sarà la tripa di Buster Adesso Che attacco per prima io Quindi non evocherò due Buster Se attaccava prima lui Era probabile A me se li evocassimo due Anzi era sicuro Beh ne evochiamo comunque due Beh la spara contro me Guardano come in sequenza Toglie il Deviabot Salvandosi Oddio se Morto così Questo trade 10-16 Da non è morto Però Insomma Gli facciamo male Mukla è morto Quindi finisce La nostra Fornitura Gratuita Di banane Cerchiamo un altro Kangaroo Il meno 3 canaglie Vediamo il 5-3 Per pompare No non serve niente Rollo 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 Kangaroo Allora Sto Kangaroo Diventa piccolino Viene attaccato Viene attaccato Comunque Meno attacco Di dama sinestra Che kill la barone Quindi in realtà Le banane possono anche Tirarle qua La domanda è Se vogliamo vendere la dama Per mettere Kangaroo Perché forse la risposta è sì A meno che non Triple Buster Tu no dopo Allora Io ragazzi L'ho montata sabato Con mio babbo Dalla cam Hardware Parlando Per la parte software Ho finito Ho finito oggi Dopo pranzo Più che altro C'era solamente un problema Che faceva vedere I metadata della camera E Tutte le varie informazioni Quando stai a fare foto C'è il Il quadratino Quando Prendi fuoco Cioè prende fuoco Metti a fuoco I vari I vari I vari I testini Batteria Quelle cose lì E Le ho rimosse Bisogna andare a spattacare Nelle impostazioni Come se guardassi Lo scrimino della camera Esatto Poi lo si vedeva Poi le ho anche ritagliate In modo tale Che più o meno Le dimensioni Fossero come prima Ci sta come dimensioni Adesso Oh Oh Sto vincendo in un soft Ci danno Allora questo qua ragazzi prima l'abbiamo battuto Quindi questa potrebbe essere una partita che portiamo a casa Non vorrei guffarla ma Si avrebbe una bella menas Lo puoi mettere qua Modulo da mettere qua invece lo vogliamo La vera domanda è vogliamo vendere damma sinistra e mettere altro kangor Forse si però poi dopo non ho più il target per zap Cioè zap mi attacca Questo diventa un set d'attacco Mi attacca kangor Mi attacca zap quindi mi indebolisco Se piazza zap Roll Roll Se piazza zap mi indebolisco Invece così zap screpa attaccando damma E va bene Ma la cornice secondo me Troppa roba dopo Poi adesso già possiamo fare questa Questa transition qua Pazzesco Pazzesco Dai comunque stiamo a fermi così Su turno Poi eventualmente vantiamo di mettere kangor Se non vinciamo Addirittura gioca meno pezzi Ma è anche meglio così Perché così il kangor evoca due buster Ma è stato subito il baron però Daglie per il buster Dai Primo posto per iniziare bene La serata Con la nuova webcam Un classico primo posto Con Deathwing Grazie a tutti Grazie a tutti